Voglio far vedere che cos'è, come funziona un mio tipico viaggio di quando da Londra vado a Roma e poi ritorno. A volte estreme in giornate, a volte il giorno dopo. Ma a seconda di dove sono a Londra quel giorno parto o dalla stazione di Paddington o con un Uber per andare a Heathrow, perché parto sempre da Heathrow, perché altrimenti con i miei ritmi sarebbe praticamente impossibile viaggiare attraverso aeroporti diversi. E quando lo faccio è veramente una grande sfacchinata, visto che molto spesso vado attorno. Oggi si parte da Paddington. E ora un quarto d'ora e siamo a Heathrow. Oggi non ho valigie da imbarcare perché non vado per eventi. Quando vado per eventi in cui devo parlare sul palco mi devo portare una serie di attrezzature particolari e questo mi è molto utile perché quando arrivo a Roma di solito ci vuole. Almeno mezz'ora e 45 minuti per recuperare le valigie. Invece così esco subito. Adesso in poi entriamo nell'area security per cui devo spegnere. Non mi posso far venire per sicurezza loro. Non ho pranzato per cui adesso si pranza. Nel pannello della lounge hanno qualche problema. Il gate è aperto e io da buon freegan flyer mi incammino. Seduti, di solito dormo e ho inventato il teletrasporto. Cioè mi addormento praticamente ora. Anche se siamo fermi al finger. E mi risveglio a destinazione. A doppio. Quanto è passato? Un secondo. Eh? I vantaggi del doppio passaporto. Andiamo. Macchina. Arrivato. Sono arrivato di sera. Domani ho tutto il giorno pieno di impegni. Poi domani sera torno a Londra. Praticamente rifacendo esattamente le stesse cose. Al contrario. Poi tra una decina di giorni di nuovo in Italia. Questa volta a Milano. Sempre per un giorno. Ci vuole tanto tempo? Sì. Però ho amici che vivono a Como. E lavorano a Roma. E abbiamo calcolato che ci mettiamo esattamente lo stesso tempo ad arrivare. Vi è piaciuto? Chi mi segue da tanti anni sa che qualche anno fa, forse più di dieci, ne avevo fatto uno simile. E allora ho detto facciamo un video aggiornato sui miei viaggettini. Però ora un po' di riposo. Ciao, 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 ciao